Di una preziosa edizione d'arte, realizzata in soli 80 esemplari, una copia da oggi è conservata all'interno dei Musei Oliveriani. Si tratta della diciassettesima trascrizione del libro d'arte Canzone al Metauro di Torquato Tasso, impressa su carte di pregio e rilegata a mano dall'Associazione Culturale Italic, con sede a Fermignano. Un gruppo di giovani artisti legati dalla passione per la letteratura e per l'arte, spinti a trascrivere in chiave moderna quest'opera, dando vita a questo cimelio. La Canzone al Metauro di Tasso è un libro che lo stesso scrittore ha composto nel 1578, quando, in fuga da Ferrara, si trovava a Urbino. Un'opera suddivisa in tre stanze, nella prima il poeta elogia il duca Francesco Maria II, che lo accolse nella sua dimora, mentre nelle altre due riporta il suo tormentato stato d'animo, in una vita che lo ha visto in continuo conflitto con i canoni della società dell'epoca. All'interno dell'edizione sono riportati tre saggi riflessivi contemporanei, proiettati all'analisi dell'opera. È un'edizione d'arte, è stampata con le tecniche tradizionali, quindi in tipografia, caratteri mobili, incisioni e tutto rilegato a mano, con anche capi lettera miniati, quindi è stato un lavoro veramente impegnativo. È un'opera che ha dei contributi contemporanei, moderni, di autori letterati, che hanno dato un nuovo punto di vista sull'opera. Oltretutto c'è anche una serie di incisioni xilografiche di Alfredo Bartolomeoli, che ha dato una propria prospettiva, una propria visione, con le sue opere d'arte, alla visione della poesia del Tasso. La preziosa offerta verrà presentata in occasione della Stradomenica di Aprile, in programma domenica a 16 alle ore 18, un volume prestigioso che va ad arricchire l'offerta che la Biblioteca Oliveriana presenta alla città. Certamente è stata per noi una soddisfazione essere contattati dall'Associazione Italica, che ha realizzato questo testo della canzone al Metauro, e prima di tutto perché hanno deciso di donare una delle loro copie alla Biblioteca Oliveriana per la conservazione, e questo ovviamente noi siamo molto contenti e soddisfatti. E lo siamo anche perché l'Entolivieri, la Biblioteca e i Musei conservano le testimonianze della scrittura che vanno dall'VIII secolo a.C. fino ad oggi, e quindi chiaramente una grande quantità e varietà di documenti legati alla scrittura e poi in seguito anche alla stampa, e quindi riteniamo che sia importante per noi avere anche questa pubblicazione, peraltro anche strettamente legata al nostro territorio, e ad averla sia per la conservazione, ma anche e soprattutto per farla conoscere e per far parlare della pubblicazione e anche di quello che siamo noi come Biblioteca e Museo Oliveriani.